Un problema che con la crisi economica sta tanagliando sempre più le famiglie, la difficoltà a pagare, rispettare le scadenze. Ed allora spesso si è costretti ad affrontare l'arrivo di qualcuno che lavora per le società di recupero crediti, che cercano di mediare per trovare una soluzione al problema, evitando le vie giudiziarie. Un settore che vede occupati 15.000 addetti per un recupero crediti che supera i 38 miliardi, con l'80% che riguarda utenze domestiche, mutui e prestiti non onorati. Ora il sistema, che ha trovato un suo assetto anche per la concertazione tra associazioni dei consumatori e la struttura che raggruppa gran parte delle aziende di recupero crediti come Unirec, rischia di essere modificato a livello legislativo e non mancano le polemiche. Così stamane conferenza stampa congiunta di Adi Consum e Unirec per lanciare un grido d'allarme per il rischio di un vuoto normativo e la possibilità di inserimento della criminalità organizzata. Gli emendamenti al disegno di legge illustrati stamani riguardano il passaggio della vigilanza dal Ministero dell'Interno a quello della Giustizia, l'abolizione della licenza e la composizione dell'organismo di controllo. Secondo il disegno di legge che dovrebbe andare il 10 ottobre in aula, diventa un problema perché chiunque può diventare recuperatore del credito e quindi vessare ai consumatori. Invece è necessario fare perfettamente il contrario. Bisogna invece aiutare i consumatori cercando di non farli arrivare in una situazione di default e chi regubera il credito come gli agenti di regubero deve in qualche modo favorire il rapporto umano tra il debitore e chi avanza il credito.